Bentornati e bentrovati, col vostro Tonio94 siamo di nuovo in Uncharted 4, la fine di un ladro Allora, siamo rimasti con, continuiamo con la storia, siamo rimasti con la domanda del tipo Quanti cazzo di anni c'ha Nathan Drake? Perché se nel carcere c'aveva sui vent'anni circa adesso ce ne avrà una trentina Penso Mi viene la domanda che ce ne avrà su una trentina Più o meno Più o meno, ripeto, potrebbe essere anche più tardi perché può essere che ce ne aveva sui ventisei Dipende da quanti anni c'aveva il fratello Allora, ci eravamo lasciati in fondo al marro Non so perché mi è appena salita un'ansia della Madonna di beccare uno squalo Ah giusto, siamo in Malesia, giusto Qui ci sono squali tigre anche, credo, se ne ricordo bene Se ne ricordo bene La mia velocità marina Che cos'era? Cosa c'è? Puoi non girare la telecamera all'improvviso senza mo- Ah, uno scoglio Scusate, non è che soffro di talastrofobia, però mi prende un colpo, se lo vedo Che in realtà a me piacciono gli squali come gli animali, però preferirei evitare di riscoltranno uno Sono animali stupendi E spesso incompresi Malesia Ma ci sono degli squali in l'acqua del Malesia, ma non mi ricordo che squali sono Uh, cos'è? Shiny Nino ha la forma di squalo Ah, gioco, se mi fai attaccato a uno squalo, io ti strangolo Vado a quelli dell'anno di Tog e li strangolo No, non è vero, voracci Che dopo Che dopo Glass of Fast 2 C'è tanta corrente Ah, ha È un container? L'ho trovato Bene, come è messo? È malcoccio, ma integro Che cosa abbiamo qui? È un container di cosa? Che stava dentro? Bene, riesco a vedere il carico La maggior parte delle casse è qui Voglio essere più preciso Dovrò prima entrare Aspetta Ti giuro se mi attacca uno squalo Fortuna che in sti quick time event non c'è una cosa del tipo Più velocemente lo premi, più veloce Ma che stiamo cercando? Eravamo rimasti che c'eravamo la cruce di San Dimi Verrà attaccato da uno squalo Verrà attaccato da uno squalo Ma è chiaro che è verrà attaccato da uno squalo Ma chi è questo? Non ho capito Ho trovato un'altra cassa Bene, ne manca una Fissala nel rimorchio Siamo vicino a te Bene, a tra poco Il rimorchio? Oh oh È troppo pesante Ricorda, l'unica cosa che voglio recuperare dal letto del fiume è quel rimorchio Ma... Eh sì, questa è roba malese Bene, una cassa è a vostra Tempismo perfetto Siamo sopra di te e la cruce sta scendendo Stiamo scendendo Cazzo Ah no Pensavo fosse un sottomarino invece È un po' più a sinistra Ok, in posizione Aggancia il rimorchio Vediamo di sollevarlo un po' Bene Bene A dove lo aggancio? Qua E dai Ci aggancio un giro? Ah sì, ok Uno è andato Bene, occhio all'ossigeno adesso Va bene Ok, io ho il camion Provando a poggerlo attorno a uno degli assi Dovrebbe andare Sì No, no, devi salire Nathan Nathan Ok Il secondo è andato Ok, il rimorchio è pronto Perfetto Allontano, ti lo solleviamo Tira su Tira su Questa non è andato là Quando volete E adesso ci siamo Ok È sufficiente? Sì, a posto Fatemelo cadere addosso Non posso promettertelo Ok Ok, ho l'altra cassa La fisso insieme alle altre Nuo cade il rimorchio Oppure Succede qualcosa Guarda Sado a aspettare che succede qualcosa Sado a aspettare che succede qualcosa Finisce l'ossigeno Qualcosa lo colpisce Usatemi E quelle cose tengono un sacco Il carico è al completo ora E con 5 minuti di ossigeno avanzati E amine Ehi, che ne dici di restare ancora un po'? Potresti trovare altri tesori qui? No, può bastare così Passaggio Sarebbe gradito Dimmi quando sei sulla crew Ah, io ne pensavo che sì Ah, beh, sì, funziona così Una volta attaccare il cavo Che se il cavo sgira Ti taglia Ti strappa il braccio Che cos'è quello? Ok Guarda che splendore Come ti senti? Meglio ora che sono uscito da un fiume Ah, siamo da un fiume No, la, la Sono pronto No, ragazzi E sono quegli operai là Che stanno arrivare al ponte No Che cazzo Ah, perché ho l'impressione Che questi si trasformeranno Appena Appena a terra Tirano fuori delle armi Perché ho il mio senso Il mio senso di autodifesa È impellente Sta vibrando Nei sensi Detonio che sei Ben tornato, Drake Sì, è bello tornare Lancia l'attrezzatura Arriva Grazie Uh Uh Bumble è leggera come una più Cerco di agevolarti il lavoro Perché ho un senso di déjà vu? Non lo so perché Non ho mai Non ho mai giocato io Questo gioco Perché Come va? Secondo te? Stai bene? In perfetta forma Ti stai mettendo tutti in cattiva luce Mi sto mettendo in buona luce Ma Vecchio oggettone della sala giochi Non c'avevano gli arcade No, da me non c'erano C'erano oggettoni quelli classici da Da sala giochi Che erano quei gettoni Che c'erano una linea sopra Sembrava una moneta di metallo Che aveva tre linee Praticamente Aspetta il resto del mondo Qui finiremo dopo Allora Quando pensate di finire? Il mio eroe Andiamo Vediamo chi hai preso Vedete di darvi una mossa Abbiamo altri dati cargo In attenzione La prossima volta lascia andare avanti qualcun altro Meriti una pausa Scusate Scusate La mia allergia ricomincia un'altra volta Eppure stamattina Poi tutto il giorno Camera Vai Ma perché? Sì, certo Grazie Saranno per tirare fuori le armi Se lo dico io Droga Armi Guarda un po' Abbiamo del rame Uuuuh Soldi Sì Se non ti spiace Sbrigo le scartoffie Poi Crollo sul divano Un'altra volta? Ok Come vuoi Ehi Bel lavoro oggi Grazie Che stavi cercando in realtà? Rame Quindi c'ha un'età adesso C'hai sui trent'anni C'ha pure il suo appartamento Ehi, ehi, Nate Nate, aspetta Ehi, che ci fai qui? Ho un regalo per te Un regalo? Che cos'è? Ho avuto una soffiata su quel riletto sommerso in Malesia Oh no La nave è intatta Sì Basta solo prendere il carico Sei un tipo tenace, devo ammetterlo E? Ci hanno anche dato i soldi per l'equipaggiamento È tutto pronto Tranne Il mio uomo migliore L'unico A cui affiderei questo incarico È diventato Un coniglio Non è che è diventato un coniglio Secondo il contatto Hai permessi? No, non hai permessi Senti, nessuno Terrà quei permessi Ma Nate Non capisci che gioca a nostro favore Niente permessi Niente concorrenza La nave è nostra Niente permessi Niente partenza Nate Sarebbero i soldi della pensione Ha messo la testa a posto Sei noioso adesso Aspetta un attimo A meno che Guarda che non cambierò idea Ti chiedo di dormirci su Va bene Saluta Carlo e ragazze da parte Ok A meno che Peccato che io non riesca a capirci niente Che è scritto in Che cazzo è? Francese Ammazza quanti ne ha Allora L'ipotesi sono due L'ipotesi sono due Sono già successi tutte Quello che è successo E la morte del fratello è recente Dice undici anni dopo Ma è recente Del tipo È successo prima degli altri tre Perché qua vedo Quella è la stoda Cosa? Anni fa ho scalato il tuo fratellone Della pietra scintamani Eh sì E quello sarà il tesco del dorato Già Una delle cose più strane Che abbia mai trovato No È un tesco di ristallo? Ah sì Forse è del terzo Giusto Ve lo ricordo il terzo Il gioco di corsa Paint Le bandiere di quando stava in Nepal La giacca di quando stava in Nepal Non c'è nessun easter egg su Un doblone spagnolo Nascosto in un sottomarino tedesco Nel cuore della giella Perché mai? Il primo Sir Francis Drake Il suo taccuino Sir Francis Drake Si è immolato per Saline Che trio Quena Trovata questa Sulla mia vecchia telecamera Vecchia camera Telecamera Vedete lo vorresti Era più piccolo Nel primo Quel coso Questa roba Si è scatenato Un vero massacro Eh Quella che credo Yup Shambhala Allora Sinceramente parlando Mi manchi amico Ah Cosa Tenzin Ah Il 2 mi è piaciuto Molto di più La storia del 2 Forse perché c'era più Misticismo Rispetto alla Cosa che La maledizione Del dorato Quando poteva essere Benissimo un virus Sir Francis E i suoi complessi enigmi Questo è del terzo What the fuck È del fratello C'è anche il Ciao Le valle Ciao Grazie Tante Santisma Factis Recipimus Recipimus Prendiamo quello che ci meritiamo Che avventura incredibile I ram The pillar The pillar Come va Io sono impiegato All'emissione di traffic Niente di grosso Non ho mai capito se Chloe Cioè no vabbè Dobbiamo pensare All'idea perduta Dopo il 4 Giusto Non l'ho mai giocato Quello Non l'ho mai visto niente Quindi non so se è dopo il 4 C'è anche un separare cinese Minchia Sì Sto giocato Anerlo Arrivano Arrivano Sono circondato Centro Peccato di questa E questa What the fuck Bastica in arrivo Non ho perso la mano C'è nei vari cattivi Allora Quello è Quello del primo Non mi ricordo i nomi Questo Che cazzata Però l'adoro Ste cazzate Le adoro Ah è una manzarda Una soffitta Una cosa del genere Ammazza che casetta Ave c'è una soffitta Barra manzarda Del genere Ci vedete in due La lavanderia Letto matrimoniale Bucato dappertutto Cabina armadio No è un armadio In realtà Ma molti lo usano Guarda come ti sei ridotto Fa la via da famiglia Non so scherzato Ovviamente Un po' si dispiace Perché dici Vabbè Non è più La sprezzante Ah Stai lavorando su questo Non vedi che andiamo a Bangkok Bangkok Wow ci serve proprio Un'altra vacanza È troppo tempo Tre foto In tutta la telecamera Tre foto Due bagni C'avete Minchia Vabbè Puglia c'ho due bagni Che vuol dire Solo che uno L'abbiamo sistemato Praticamente Neanche dieci anni fa Fate la riciclata Sì Bravi Fate la cosa Riciclata Il riciclaggio La differenziale Ecco Spicy Spicy dumpling Ottimo Ma vuoi una bebbita? Soda Mi avevo fatto Berre una birra Si è accasato Diciamo E fa strano Ma Prima o poi Lo doveva fa Ok Fatto Scusate Mi senti l'oso Col naso Ma che strano Vedi lì Sai no Forse è lungo E' pieno di errori Di battitura Ma esistono I revisori Giusto Oddio che fame Sembra buono Dunque Com'è andata oggi? Cosa? Non si è capito niente Scusa Scusami Come è andata oggi? E' andata bene Classica giornata Da sogno Ho ripescato Spazzatura dal fiume Già Ma almeno ti sei fatto Una nuotata Hai trovato Rifiuti interessanti? No Una Un vero cimelio Era Primo ventesimo secolo Un camion Autentico Pare che i nativi Lo chiamassero Autocarro No 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 Allora Era nato come un Articolo leggero Sul turismo a Bangkok Ma Dubito che la rivista Apprezzerà il taglio Che ho deciso di dargli Perché Tutti quanti Hanno iniziato subito A parlarmi del problema Dello smog Di come Ti colpisca dritto ai polmoni Non appena metti piedi giù Dal l'aria Ha fatto subito Un versione Di video Un rapporto Beh A parte che c'è i miei capelli Cristo C'abbiamo gli stessi capelli Che quasi la stessa barba Cribbio Nate La sincerità È la base della relazione Veramente Di Bangkok Scusa Quale? Questo? Di Bangkok Dei voli per Bangkok Che Sono Sempre più difficili Perché C'è un sacco di smog E non Possono Atterrare Wow Va bene Mi spiace No È stato coraggioso Ci sono andato vicino No Vicino è un parolone Ma Sì C'eri quasi Jameson ti ha proposto ancora il lavoro in Malesia Jameson mi propone sempre il lavoro in Malesia Senti Nate Penso proprio che dovresti accettare Ah Come? È che non lo voglio Puzz Cazzate Per prima cosa non hai permessi E si era stabilito che non avremmo più presto lavoro così Non ne vale la pena Non sembra così tanto rischioso Se il problema sono solo i permessi Puoi chiamare Sullivan Da quant'è che me lo vedi? Due anni Possiamo chiudere il discorso Ma zio Sally no Ma non voglio che rinunci per colpa mia Rinuncio perché non voglio farlo Ok? Apprezzo il tuo gesto È solo Allora vado di là a lavare questi piatti Ferma la faccio io Ma dai L'hai lavato ieri Tu hai cucinato Io lavo tranquilla Insomma Almeno Almeno Lascia che me la guadagni In qualche modo Potremmo Giocarcela Vorresti giocartela? Sì Sì Con il tuo giochino elettronico Scommetto che posso battere il tuo record Pensi di poter battere il mio record Nel giochino elettronico? Sì E tu hai paura? Ma non sai neanche come si chiama Non mi serve sapere come si chiama Devi giocare Devi saltare E correre E io ho un talento naturale Per questo Allora Che ne dici? Pollo Scommettiamo? Che bastarda Mi adoro Oh mio dio È una PS1 È una PS1 Ma che cazzo dici? Siamo nella PS1 Madonna Quanto cazzo Non hai pazienza Quando accendi qualcosa Ti aspetti che Ok Ci siamo No ti prego No Qualcosa non va? No No è che Ehm Come fai? Come si inizia? Premi il tasto start? Ok Ci sono Ok Ma lo posso comandare? Verso la telecamera Verso la telecamera Riccardo Il tasto Cicchio L'attacco vortice Ok Scappa dal macigno Perché il macigno Mi insegue Tu pensa a scappare Io Non gli ho fatto niente Usa l'attacco Quella origina Lo ricordo Anche se Non ho partecipato A questa generazione Purtroppo Che bestia Una volve? Un bello Scemo E' un bello Con i jeans Ok Prendi 100 frutti 100 frutti Danno una vita extra 100 Chi ce l'ha Il tempo Di prendere 100 frutti E' più facile Di quanto sembri Perfetto Non fanno così E' un bello Non assomiglia affatto A un bello Hai mai visto Un bello Si in foto No Mi dostano scarpe Da ginnastica La grafica Non è Giusto Ok Spacca le casse Una bomba Che spacca le casse E' un bello Insomma Lui fa così E' non molto rile Si Stai andando Piuttosto bene Perché non devo Ok Ok E' perché non posso Usare la levetta Non è una volpe Cazzo Never Cosa Morto così Te la sei cercata Non ci credo Ce l'avevo quasi fatta Puoi sempre ricominciare Dai ti arrendi o riprovi Ma la mia auto Servirebbe una bella Cosa Che fai Ti metti a sfottere ora Si c'è una modalità Che si chiama facile Tu l'attivi Ed è molto più facile A livello facile Parla Parla Che vorresti fare Guarda che ti ha aberto Che vorresti fare Nella vita reale Cosa sai fare Dimmi Stai attenta Che cosa sai fare E se faccio così Provo a farti Uno per l'altra però Ehi Sei felice? No Sì Certo E tu? Chiedimi se sono felice Beh Ma significa Vieni qui Ma vai Malesi E basta Non siamo ancora aperti Non aprire quella porta Siamo chiusi Mettete sotto Alla scrivania Andiamo Va bene Va bene Arrivo Chi ha pari a sparare È il fratello Ti immagini Sì? Posso aiutare? What the fuck Sto cercando il mio fratellino E' alto più o meno come lei Un po' più magro What the fuck Tutto ok un cazzo Mi sto morì Ma come Pensavo fossi Li ho visti spararti Sì L'hanno fatto Proprio Qui Porca troia Tanto che sei vivo I dottori hanno Beh Dottori Mi hanno ricogito E Sbattuto di nuovo in cella Sì ma Io Ho telefonato e controllato ovunque E ogni persona Ogni documento Confermava la tua morte Nathan Abbiamo ucciso una guardia Volevano che marcissi in quella cella Per tutta la vita E c'è mancato poco Cazzo Sam Se l'avessi saputo Io ti Ti giuro che sarei tornato Tornato a prendermi Lo so Nathan E' per questa che non l'ho fatto L'unica cosa che conta E' che sono libero Come è fatto ad essere libero? Ehi Sei ancora fra noi? Eh no Fa vedere C'ha un fantasma davanti Mi serve aria C'ha un fantasma davanti Praticamente Non vorrei Svenirmi in braccio Spero Potrei Non è una cosa da poco no? Ma tu Come sei uscito? Quando sei uscito? Come mi hai trovato? Fino a qui? Ok ok Calmati Ok Siediti Oh che bella sta scena Che c'è da dire? Beh Ho chiamato i vecchi contatti Mi hanno raccontato delle storie pazzesche Quali storie pazzesche? Spalatorie Tu appesa un treno deragliato sull'Himalaya Come una ferita al fianco Cosa è successo? Andiamo Cosa mi sono perso? Cazzo Da dove inizio? Inizio dalla parte migliore Ok Eh Ricordi la nostra teoria Che Sir Francis Drake Finse la sua morte? Sì Ma Era vero Ho trovato la bara All'arco di Panaman Sì Ok Stai a sentire Faccio per aprirla E non c'è il corpo Ma Sul fondo C'è il suo vecchio diario Mi prendi per il culo? E quindi è un'altra Città leggendaria distrutta Ma Ne siamo usciti vivi A malapena Incredibile Questa è una cosa bellissima Poter parlare così tutta la notte Peccato tu non ci fossi No È che è letteralmente incredibile Mi Mi stai dicendo che sei Inciampato Sull'ennesima miniera d'oro Archeologica E non so come Ne sei venuto fuori A mani vuote Sì Beh È un po' la storia Della mia vita A dire il vero Qualche gengillo L'ho portato a casa ogni tanto Ho comprato L'auto La casa L'anello di fidanzamento Sono sposato Che scemo Elena Quella delle avventure È mia moglie Devi conoscerla Stasera A cena A casa nostra Vieni a mangiare Così potrò dirle tutto di te No Non è venuto per te Dovrò dirle tutto di te Nathan Merda Dovrò dirle tutto di te Sono in un mare di guai Occhio a Damn it Cosa? Di che parli? Che tipo di guai? Che hai fatto? Il nome Hector Alcasar Ti dice niente? No Ma non mi piace Il posto è la droga Il macellaio di Panama Giusto? Perché? È una storia complicata Ma Era in cella con me L'ultimo anno Porca miseria Per questo sono riuscito a uscire Ha fatto un patto col diavolo praticamente Dica a me Ecco c'è Le guardie Cantano Vabbè Saranno ubriachi Chissà Però sono contenti Come potono contentarsi di queste vite meschine Dei loro squali do lavoro Almeno Hanno una moglie che li aspetta Noi che abbiamo? Eh? Senza offesa eh? Teniamo L'ambizione Oh Quello è un fuoco pericoloso L'ambizione ci porterà dove quegli idioti non immaginano nemmeno Eh già Apprezzo il tuo ottimismo Che farei quando sarei fuori Samuel? Se mai riuscissi a uscire Sai già quello che farei Claro Però voglio sentirtelo dire Troverò il più grande tesoro pirata di tutti i tempi Di cui ormai sarai stufo a risentir parlare Oh no La storia di un reverede se 400 milioni in oro e gioielli È la mia nuova nina nana preferita Tu pensi davvero di trovarlo? Era messa lui in caboccia Se fossi libero? Assolutamente L'ambizione Cos'è che diceva Averi? Sono un uomo di ventura Devo seguire il mio destino Mi gusta il suo spirito Cazzo gli ha fatto fatto proprio un assalto Vieni Ah uso il favello Porca puttana Laszze masse stanno in posizione In cammino Todo va di acquerva al flasso Fantastico Tu hai iniziato a progettare tutto Quando ho messo piede in questo posto Samu Datti una mossa Dobbiamo fare in fretta Ah ma sai tutti Quindi non solo sei ricercato adesso Ti peggio di più Figuro Ok Lo dici tu E' quello il punto Tu si la rivolta come esca No 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 Ma fai la maco sparà Nice Ma anche Ma ammazzano tutto Mamma mia E' ironico che però Tutti i cazzo di tenuti in giro Tutano solo a noi Vabbè anche vero che siamo quelli armati E' o E' irrep Aspettiamo 化 E' Che To Sì 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 Sto piano, tutti con sti piani Sì, poi fanno un disasso Sì, buschè dove corrieste Samuel, esconditi dietro qualcosa Cosa? Perché? Palme basta Sì, siamo spagnati 14 Sì, sì, sta bene Com'è che si correva? Ah, ecco Mi piace come hanno fatto, vabbè, la grafica aumentata Da più vecchio Cazzo Non serviva Ripeto, ma vabbè Cazzo Cazzo Troppo per voi ho un sacco di esperienza con le signe automatiche E i videogiochi Vabbè Vabbè L'area sta segura Estamos bene Samuel Samuel, a riparo Samuel, tra un minuto seremo liberi, o mordi Che la senti? Eeeh Oh shit Oh shit Io indietro Grazie, è però un po' meglio. Minchia... Andale, andale, andale... Eh, però, levatevi delle balle Non ho un paio di decisioni in più Cioè, non voglio morire nel PG Aiaiaiaia Andale, 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 andale Agua Aiaiaiai Aiaiaiaiai Vedi? Oh, no, no, sto bene Non sono mai stato meglio No, prendi. Se ti sei trattato. Forza, vedi? Grazie. Troppo buoni stavessi. Allora. Che vuol fare, Samuel Drake? Accidenti, vediamo. Farmi un bagno. Dormirei in un vero letto. Claro. Magari troverai una bella donna che mi scaldi. Eh? Adesso. Cercherò il mio fratello. Mi sembra un buon inizio. Sì. Certo. Il tesoro. Quanto tempo ti servirà per recuperare il tesoro di Ederi? Eh... Non lo so. Ho tornato negli Stati Uniti e riprendo le ricerche. Quanto? È finito la parte buona. È difficile dirlo a dire di ricerche. Hai detto di sapere dove? Sì, al... Certo, ok. Ma... Senti... Non è che... Ederi abbia lasciato una mappa con sopra una grossa X. Ma ho delle ultime indizie. Ecco. Ok. E... Ascoltate. Aspetta... Aspetta un attimo. Ehi, servo! È come minimo in Malesia. Te immagini? E tu cacciali. Ascoltami. Io... Lo troverò. Lo caccia. Quanto? Che tempo possibile. Sei mesi. La gente è pigra. Tende sempre a chiedere più tempo del necessario. Tre mesi. Tre! Tre mesi è impossibile. Tre mesi. Metà del tesoro. E servirà come minimo un mese per arrivare fino ai Stati Uniti. Ti ammazzo. Ti ammazzo. Non sarò così clemente da ucciderti. Vieni. Forza. Ora, la città più vicina. E' dieci chilometri in quella direzione, verso l'alba. Che bastardo. Da quanto non vedevamo un'alba all'aria aperta, eh? Vamos. Vedete se avete sentito. Che faccio? Tranquilo. Quando verrà il momento, passerò a riscuotere. Vedete se ci stavano dei rumori durante il filmato, eh? Stavo... Mi si era addormentata una gamba e mi stavo muovendo perché mi dava un fastidio cane. Io mi sono seduto su una sedia. Quindi... Dal casare mi ha tirato fuori e... Ed eccoci qui. Non è l'acqua. No, basta riprendere la pista che avevamo. Ah no, ce l'ha ancora in mano la sigaretta. Sam, non c'è nessuna pista. Quando Rafe e io siamo fuggiti, lui ha speso il patrimonio di famiglia per il terreno della cattedrale di San Isma. Abbiamo cercato per settimane, ma il tesoro di Avery non c'è. Ma questo non ha fermato Rafe. L'idiota ormai scava da anni. Non ha ancora trovato nulla. Beh, non mi sorprende. Perché? Che vuoi dire? Sì, lo sai. Ho fatto anch'io qualche ricerca e... Che roba, eh? È incredibile cosa si può trovare oggigiorno su internet. È originale. È solo la croce di San Isma. Tu dici? La nostra era rotta e vuota, ricordi? Dici che dentro c'è qualcos'altro? Cioè, scusa, se c'è dentro c'è una mappa, per esempio. Ma dove si trova? Oh, questo magnifico articolo sarà messo all'asta tra tre giorni a Villa Rossi. A Villa Rossi? Sì, la conosci? Eh, ovvio. E come penseresti di ottenere un invito per un'esclusiva e blindatissima asta del mercato nero? Ecco, serve necessariamente un invito per quello... Ok, e i soldi per superare tutte le offerte dei miliardari? Potrei anche ipotecare due volte la casa, ma non basterebbe neanche... Già, tu vuoi provare a rubarla, eh? No. Noi due. Ecco, questo è bastardo, bro. Oh no. No, Sam, giuro. No, non posso. Ho chiuso. Cosa? No, io non faccio più questo tipo di cose. Tra l'altro c'è un sacco di gente che è anche meglio preparata. a gestire situazioni così. Tipo che? Non saprei, tipo... Chiunque? Charlie Catter? No. Lui è il numero uno per questi lavori. Assolutamente no. Non affiderò a Charlie o a chiunque altro tu abbia in quella rubrica la mia vita, ok? Qui ho bisogno di te. Andiamo, Sam. Mo se accetta e non glielo dice a Elena, glielo prendo a schiaffi, però. Non col tempo che mi resta. E di certo non con Alcassar. Continua a fumare un altro po', il tempo ti si riduce ancora di più. Ciao, tesoro, sono io. Sì, senti, non ci crederai mai. Jameson è appena entrato qui con i permessi. No, non mentire, Nathan! Beh, credo accetterò il lavoro in Malesia. Eh, e mo devi rifare un'altra volta il lavoro in Malesia, se ti potete beccano. Prendo quella verde, è l'unica verde. Tutti gialle, nere, bianche, rosse. Ma bel verde. Oh, che bel papion. Non vedi niente? Solo dei farabutti d'alto bordo con l'abito delle grandi occasioni. E ancora nessun segno di Sullivan. Beh, c'è ancora tempo. Sembra che il deposito sia nell'edificio dietro la villa. Da lì lo vedi? Si vede solo il tetto. Oh, chissà cosa tengono nascosto lì dentro. Non centriamoci sulla croce di Eberi, ok? Non lo so. Non vuoi portare un regalino alla tua signora? Vuoi dar un cazzotto se non la fai finita? Non complichiamo tutto. Esatto, complicato. Sarebbe meno complicato se fossimo solo noi due. Eh, Ocean 3000. Sì, ma correndo rischi. Hai pensato a un piano di riserva nel caso Sullivan? Ci dia bocca? No, perché non lo farà. O se viene beccato. Sam, conosce chi organizza l'asta. Conversa amabilmente con gli invitati. Va di sopra, apre la finestra e siamo dentro. È un piano perfetto. Uh-huh. Non si chieda perché non lo conosce. Avanti, dillo. E se ruba la croce e se la tiene? No, non lo farebbe mai. Victor Sullivan? Parliamo dello stesso Victor? Sì, in passato ha fregato qualcuno, ma non noi. No, non te. Ok, so che tra voi non corre buon sangue. Puoi dirlo forte? Io mi fido di lui, ok? È uno di famiglia. No, 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 ascolta. Ti chiedo solo di fidarti anche tu. Hm? Hm? Va bene, va bene. Verrà ad aiutarci. Hm? Prima o poi. Ok, ma ammetterei che non puoi escludere a priori la possibilità che... Eccolo. Visto? Nice. Fiducia. Malfidato. Ti devi sempre fidare di Sully. Bet è col Sully. Non sporcare il vestito. Ah-ah-ah. Bet è col Sully. Grazie. Chi nasce ladro, muore ladro. Chi nasce ladro, muore ladro, muore ladro, muore ladro, muore ladro.